Posso dire delle cose che tutti sanno già. Da un lato che il professor Monti, in occasione della decisione del capo dello Stato di assegnargli la guida di un governo di tecnici, aveva garantito al capo dello Stato che non si sarebbe poi presentato come protagonista della politica, sfruttando questo suo periodo di governo tecnico appoggiato da maggioranza e opposizione in Parlamento e seguito dal favore di tutti i grandi quotidiani italiani. Questa garanzia l'aveva data anche a me come Presidente del Consiglio uscente e l'aveva anche pubblicamente promessa agli italiani in ripetute occasioni. Quindi il fatto che lui ora abbia cambiato parere porta una perdita di credibilità molto forte al personaggio.